Tre deferimenti stato di libertà emessi dai carabinieri nella provincia di Reggio Calabria, in Lazzaro, Melito di Portosalvo e Bova Marina. Gli interventi sono stati eseguiti nella giornata di ieri, lunedì 19 aprile 2016. La prima accusa ha riguardato B.A. di anni 43 da Motta San Giovanni, poiché essendo stato affidato ai servizi sociali, non esibiva ai militari l'ordinanza della predetta misura, come previsto dalla stessa. In Melito di Portosalvo, invece, è stato deferito il Stato di Libertà B.G. di anni 19, in quanto come custode di ciclomotore sottoposto a sequestro, non era in grado di giustificare l'assenza del mezzo a controllo effettuatesi. Infine, in Bova Marina, il deferimento ha riguardato due fratelli, Z.D. di anni 49 e Z.A. di anni 43 per i reati di danneggiamento, introduzione e abbandono di animali nel fondo altrui, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, ricettazione o messa custodia e malgoverno di animali. Dagli accertamenti, gli animali risultavano privi di marchi o censiti alla Banca Nazionale del Ministero della Salute, quali già deceduti o abbattuti. Si è provveduto quindi al sequestro di numero 173 capi di ovini e caprini, affidati temporaneamente ad un locale mattatoio in attesa del relativo decreto di abbattimento.